Più preoccupato, ipotesi, opzione 1, per lo scontro tra Draghi e Salvini, opzione 2, per diciamo il dialogo diversamente sereno all'interno della coalizione, ipotesi 3, non sono preoccupato. Prego. Insomma, per carattere e per il mestiere che faccio, no, essendo io alla difesa, l'ultima cosa che posso fare è essere preoccupato, se uno che deve dare sicurezza è preoccupato è la fine. Diciamo quindi mi impongo di non essere preoccupato, detto questo non ci sono nubi all'orizzonte, cioè il governo è un governo che è nato per necessità. Ma no, ma sul centro-destra, quindi Draghi e Salvini non ci sono nubi. Ma guarda, sul centro-destra posso dirti, no, non sono preoccupato perché abbiamo dimostrato ancora una volta che laddove si va convintamente insieme, vedi la Calabria, il risultato arriva. Dopodiché la rincorsa all'interno di questa coalizione è un dato che ci sta. Dopodiché se sei al governo è cosa diversa se hai un ruolo di opposizione, nel senso che se sei al governo il marketing elettorale, come dicevo ieri, non può funzionare avendo quella responsabilità. Lo stato del centro-destra è uno stato che comunque ha consentito ancora una volta di essere uniti ovunque, in tutte le grandi città, partivamo da questo 5 a 0, vediamo come va a finire, nel frattempo, come dire, qualche altro comune magari... Vabbè, provo ad entrare meglio nelle cose. Intanto, riforma del catastro, quindi scontro Draghi-Salvini, riforma del catastro, la domanda è, si alzano o non si alzano le tasse e siccome Salvini per due giorni ha detto che si alzavano le tasse e che non con il suo nome, com'è? Sì, sì, notti in maniera. Ma guardi, se si fossero alzate le tasse... E bugiardo Mario Draghi. No, guardi, se si alzano le tasse ci alziamo noi dal governo, quindi non è che le cose stanno dallo stesso punto di vista, nel senso che non esiste un'ipotesi che si possa essere capito bene Salvini. Io non so se non aveva capito l'ipotesi, io so quello che abbiamo capito bene noi, che non a caso, io ho definito Forza Italia in questo caso l'antifurto fiscale per la Casa degli Italiani, mi è venuta... Ma com'è Camilla, l'antifurto fiscale è male. Avendo fatto qualche titolo in Italia, insomma qualche reminescenza... Un Brunetta che fa l'allarme quando suono. Un Brunetta che fa l'allarme, vabbè. Un Brunetta quando si mette a gridare vi assicuro che... Appunto, appunto, credo che Camilla si riferisse a questo. Esatto, no, quindi le tasse non aumentano e non aumenteranno. Ma questo fraintendimento, come c'è potuto essere? Guardi, probabilmente c'è un difetto di comunicazione tra, diciamo, la presidenza del Consiglio e la delegazione dei ministri della Lega. Non posso pensare altrimenti... Solo con i ministri della Lega? Noi abbiamo letto la legge delega, abbiamo visto e ci è stato spiegato... E a loro gli hanno nascosto le carte? Eh, ma questo io non lo so. No, nascosto le carte. Guardi, quelle robe lì avvenivano... Si ricorda la manina, ti ricordi la manina? Eh, a voi, a manine! Me lo ricordo e come, ogni tanto ne spuntavo... Ecco, dell'Unce in procura di Maio... No, 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 capito, però tu mi stai dicendo... È un governo serio, diciamo. Lì, le carte noi le abbiamo ricevute, i ministri hanno avuto il tempo di esaminarle, tant'è che noi diciamo che il problema non c'è. E lì cos'è successo? Non le hanno avute, le hanno lette male? Oltretutto io, come dire, astando a quello che dice ancora oggi Salvini, capisco che anche lì il messaggio è passato, cioè le tasse non aumentano. Se ne riparla nel 2026, aggiungo, siccome nel 2026 spero, auspico, che ci sia un governo saldamente di centrodestra, senza la maionese attuale... Sarete voi a decidere tutti. No, 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 l'abbiamo già deciso. Le tasse sulla casa, non, 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 non saliranno. Fermo lì, Alessio, e poi due Alessi, perché vedete...